Ben ritrovati da metincalabria.it. Sul nostro paese continuano ad affluire correnti umide che saranno responsabili di maltempo nelle prossime ore. In particolare nella giornata odierna pioggia anche di forte intensità interesseranno le zone ioniche. Solo da sabato è atteso un miglioramento. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per la nostra regione. Oggi nuvolosità irregolare a tratti anche compatta su tutta la regione con piogge deboli al più moderate sui versanti tirrenici forte ed anche a carattere di rovescio su quelli ionici. Nevicate anche copiose interesseranno le alte quote dell'aspromonte e dell'asila in particolare l'asila piccola. Domani ancora presenza di nubi sparse un po' ovunque. Possibili piogge su Cosentino e versanti tirrenici con qualche fiocco di neve sui monti. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Oggi ionio agitato localmente molto agitato con venti anche forti di scirocco. Il tirreno risulterà mosso con motondosi in attenuazione e venti che inizialmente spireranno da quadranti orientali ma che tenderanno a ruotare da quadranti occidentali. Domani lo ionio risulterà ancora agitato, il tirreno mosso molto mosso quello meridionale. I venti ruoteranno da quadranti occidentali su entrambi i bacini. E per ulteriori dettagli vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento a domani.